George Danzig era un dottorando di Berkeley che non riusciva a rispettare il rigore e le scadenze dell'università, ma aveva una mente brillante che gli ha permesso di rimediare alle sue mancanze e allo stesso tempo stupire i suoi professori. Nel 1939 l'americano George Danzig era un dottorando all'Università di Berkeley, in California. Aveva cominciato il suo percorso di studi come tutti i suoi colleghi, dedicando molto tempo allo studio e impegnandosi a fondo per raggiungere i propri obiettivi. George studiava regolarmente fino a tardasera, ma come tutti gli studenti, a volte aveva difficoltà nel concentrarsi, memorizzare le nozioni e anche seguire le lezioni. Chi di voi non si è sentito almeno una volta sopraffatto dal carico di compiti scolastici? A volte il cervello ha bisogno di una pausa che non possiamo concedergli, ma la sua ripicca è sempre dietro l'angolo. George ha sperimentato le conseguenze della sua stanchezza una mattina dopo aver dormito fino a tardi. La sera prima era andato a letto a notte fonda dopo aver studiato per ore e aveva dimenticato di mettere la sveglia. Quando si è accorto di essere terribilmente in ritardo per la prima lezione del giorno, George è sceso dal letto come un fulmine e si è preparato in 4 e 4-8. Alle prime ore aveva lezione con il professor Jersey Neyman, un uomo molto competente, ma piuttosto severo. George è entrato in aula con 20 minuti di ritardo e si è beccato un'occhietaccia torpa dall'insegnante. Il dottorando si è seduto al suo posto con la testa bassa e ha rivolto tutta la sua attenzione verso la lavagna. Il professore aveva scritto diverse equazioni e George le ha copiate tutte diligentemente sul suo quaderno, immaginando che fossero compiti per casa. Se solo fosse arrivato in orario avrebbe saputo che la realtà era molto diversa. Una volta a casa, George ha risolto tutte le equazioni proposte dal professore, incluse le ultime due, che sembravano molto più difficili delle altre. Erano di un livello superiore, decisamente più complesse, ma dopo essersi scervellato per giorni, George è riuscito a decifrarle. I suoi compagni di corso avevano già consegnato i compiti al professore nei giorni precedenti, ma lui non aveva fatto in tempo e aveva oltrepassato la scadenza. George si è scusato per entrambi i ritardi e l'insegnante ha deciso che per quella volta avrebbe chiuso un occhio. Sei settimane dopo, alle sei del mattino, qualcuno ha bussato con insistenza alla porta di casa di George. Chi poteva essere? Il professor Neiman era sull'uscio della porta e aveva uno sguardo stralunato. «Ti rendi conto di quello che hai fatto?», ha esclamato quando ha visto George. Il dottorando era confuso. Possibile che avesse commesso degli errori così gravi nei compiti da costringere l'insegnante a presentarsi a casa sua alle prime luci dell'alba? L'insegnante ha spiegato che le ultime due espressioni scritte alla lavagna non erano compiti per casa, ma esempi di equazioni irrisolvibili che nemmeno lo stesso Einstein era riuscito a decifrare. Questo significava che George era un genio. Il ragazzo era sorpreso quanto il professore. Da quel momento in poi la sua vita accademica è cambiata. George ha scoperto nuovi stimoli e si è laureato con i massimi voti, portando come argomento della tesi proprio le sue equazioni irrisolvibili. Il suo lavoro è diventato famoso in tutto il mondo e il suo nome ha assunto un significato diverso per tutti gli studenti di matematica. George ha creato l'algoritmo Simplex ed è stato definito da molti come il padre della programmazione lineare, un concetto che viene utilizzato ancora oggi dalle aziende per definire i margini di perdita e profitto. La sua storia è stata raccontata anche nelle chiese americane. Un pastore evangelista ha deciso persino di raccontare la sua vita in una biografia e il suo lavoro ha contribuito a estendere la fama di George Danzig. Anche il cinema ha tratto ispirazione dalla sua storia. Una delle pellicole più famose è il capolavoro hollywoodiano Will Hunting, genio ribelle, con Matt Damon nella parte del protagonista. La prossima volta che vi sentite poco adatti al contesto in cui state cercando di inserirvi, ripensate alla storia di George Danzig. Adara Perez Le persone come George Danzig sono rare, ma non uniche. Un altro grande genio risiede nella piccola Adara Perez, che a otto anni ha dimostrato di possedere delle capacità mentali decisamente più avanzate rispetto a quelle dei suoi coetanei. All'età di soli tre anni, ad Adara era stata diagnosticata la sindrome di Asperger. Crescendo, la sua vita risultava sempre più ostacolata dalla sua condizione psicologica, che le creava numerose difficoltà nella sfera sociale. Per questo motivo, l'esperienza scolastica di Adara non è stata particolarmente piacevole. I compagni di classe la consideravano strana e la sottoponevano a un bullismo feroce. Fare amicizie in un contesto così arido era praticamente impossibile per lei, e presto i suoi unici amici sono diventati la solitudine e il senso di inadeguatezza. La situazione era talmente grave che Adara ha cominciato a soffrire di una brutta depressione. Adara era piccola, ma sapeva già analizzare la tavola periodica e risolvere delle equazioni complicate. Per migliorare la sua situazione sociale, Nelly ha deciso di portare la bambina da uno psicologo. Non è servito molto tempo perché il dottore comprendesse l'ampiezza delle capacità di Adara e consigliasse a sua madre di recarsi presso un centro specializzato per giovani talenti brillanti. È qui che Nelly ha avuto la conferma che la sua bambina era un genio. Tutti i genitori credono che i propri figli siano dei piccoli prodigi, ma Adara lo era davvero. Aveva un coziente intellettivo di 162, un numero maggiore persino di quello rilevato in Albert Einstein e Stephen Hawking. Il motivo per cui la bambina non riusciva a socializzare non era l'Asperger, ma la sua infinita intelligenza. Le lezioni che frequentava a scuola erano troppo banali per lei e gli altri ragazzini non erano sufficientemente maturi per interessarla. Adara è stata iscritta presso una scuola per persone dotate, in cui ha finalmente potuto mostrare il suo talento. Ha finito le scuole elementari a 5 anni e le superiori a 8. Da quel momento in poi ha iniziato a studiare per conseguire due lauree diverse, una in ingegneria matematica industriale e una in ingegneria dei sistemi. La sua storia è diventata famosa in tutto il mondo grazie a un libro che lei stessa ha scritto per condividere la sua esperienza come bambina prodigio e vittima di bullismo. Non bisogna mai giudicare un libro dalla copertina. Un bambino apparentemente strano o svogliato potrebbe rivelarsi un genio incontenibile. Siamo sicuri che sentiremo presto parlare di Adara e delle sue grandi gesta. Jason Potgett L'americano Jason Potgett ha vissuto un'esperienza affine a quella di George e Adara, ma il suo genio non si è manifestato fino al raggiungimento dell'età adulta. Jason non era la persona che ci si aspetterebbe di incontrare quando si pensa a un intellettuale brillante. Amava le feste, l'alcol e le belle donne, che per anni sono stati i suoi unici interessi. Era un ragazzo sveglio, ma non eccelleva in nessun campo in particolare, motivo per cui non aveva mai destato sospetti nelle persone che lo circondavano. La sua vita è cambiata drasticamente nel 2002, durante un venerdì sera che si è trasformato nell'inizio di un nuovo capitolo. Jason era stato invitato a una festa presso un bar in cui si faceva karaoke. Come tutti i venerdì, stava bevendo molto e si stava divertendo con i suoi amici. All'improvviso, però, è successo qualcosa di inaspettato. Jason ha sentito improvvisamente un colpo violento alla testa. Ha visto tutto bianco ed è svenuto nel giro di pochi secondi. Non prima, però, di avvertire il dolore di un calcio allo stomaco. Un uomo sconosciuto lo aveva attaccato apparentemente senza motivo. I suoi amici lo hanno portato subito all'ospedale più vicino e i medici lo hanno preso immediatamente in cura. Un'attacca ha dimostrato che Jason aveva una commozione cerebrale e, con una radiografia totale, i dottori hanno scoperto anche un rene collassato a causa del colpo allo stomaco. Il suo cervello non era più lo stesso. Jason ha iniziato a provare degli stimoli ossessivi compulsivi che lo costringevano a pulire continuamente la sua casa da cima a fondo. Inoltre, i suoi occhi sembravano mostrare un mondo diverso. Vedeva quadrati, forme geometriche e numeri in tutto quello che gli capitava davanti, inclusa l'acqua e il cielo. Quando un giorno sua figlia gli ha chiesto come funzionasse la televisione, Jason è stato in grado di fornire una spiegazione estremamente esauriente e dettagliata. La bambina non riusciva a seguire tutti i suoi ragionamenti, quindi Jason ha provato a spiegarle le basi della meccanica, disegnando forme e numeri su un foglio. È in quell'occasione che ha scoperto che la matematica lo affascinava. Jason ha iniziato a prendere lezioni di matematica avanzata all'università, e nel giro di poco tempo è diventato un noto scienziato riverito nel suo campo. Il colpo ricevuto alla testa doveva aver alterato qualche equilibrio chimico all'interno del suo cervello, permettendogli di guardare il mondo con occhi diversi. Il suo incidente è stato una vera fortuna, e Jason, ironia della sorte, non può che ringraziare la persona che l'ha picchiato selvaggiamente in quel bar. Non possiamo mai sapere come cambierà la nostra vita finché non la affrontiamo. Avete mai incontrato un genio o un bambino prodigio? Raccontateci le vostre esperienze nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime storie interessanti.